Bene, ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati in un altro video. Allora, sorvolando sui miei schifosissimi capelli, che ormai sono gialli a macchie, non so se lo vedete, può, stanno scolorendo, ma sono sempre a casa in malattia, stanno sempre male, non posso andarli a tingere, quindi vi beccate una Christie scolorita e mi dispiace. Allora, sono qui per parlarvi delle serie del momento, delle serie che io guardo al momento. Mi sono fatta la lista perché non sono poche, alcune le ho anche terminate. Allora, la prima in assoluto, che è stata una rivelazione, è stata la manna dal cielo, quello che aspettavo da anni e che non c'era mai, parlo di American Gods, ormai penso la conosciate perché sta diventando piuttosto famosa, c'è anche il libro. Praticamente si parla della battaglia delle vecchie divinità, le divinità pagane, tra cui sì, anche quegli egizi, finalmente, una serie tv in cui fanno vedere anche quegli egizi, non sempre solo i centi o i greci. Qui ci sono anche Almudi e Toz, grazie signore. Insomma, dicevo, la guerra tra le antiche divinità, capiaggiate da Odino, che vuole appunto raggruppare queste vecchie divinità in decadenza, perché comunque li stanno dimenticando, per muovere guerra alle nuove divinità che li stanno soppiantando, le nuove sono successo, fama, media, droga, tecnologia, eccetera. E il protagonista è Shadowmoon, un tipo appena uscito di galera, che viene appunto ingaggiato da Wednesday, questo misterioso Wednesday, che sin dall'inizio si capisce che è qualcosa di più, poi si scoprirà che è Odino in persona, che lo vuole al suo fianco per un motivo, perché lui è speciale, e man mano che va avanti la serie tv, vengono fuori più cose sul passato di Shadowmoon, e ancora adesso io sono al settimo episodio, non si capisce che cosa lui sia in realtà, ma anche Shadow sembra qualcosa di diverso. Comunque non mi dilungo, perché ho fatto un'intero video a recensione su questa serie tv, bellissima, perché se la meritava ve la lascio qui, andate a vedere quel video, perché è molto più dettagliato, qui l'ho spiegato un po' così alla veloce, però andate a vederlo perché, e guardate questa serie tv perché è bella, vi piacerà. Poi ho finito One Sapona Time, tutto, era rimasta, che mi mancavano due episodi, ma più di un anno fa, della quarta stagione, poi mi era venuta a noia, perché dopo un po' fanno sempre la stessa cosa, non sanno più cosa inventarsi. L'ho finita, ho visto tutta la quinta e tutta la sesta, accorgendomi con mio grande stupore, e anche un po' di tristezza, devo ammetterlo, che era la fine della, cioè non era la fine della stagione, ma della serie, la serie è finita, con la sesta stagione, e mi dispiace davvero tanto, perché è stata comunque corta, rispetto ad altre serie tv, però mi rendo conto che non avevano più personaggi, non c'erano più cose da inventarsi, con cui lavorare, e siccome già nell'ultima stagione, era un pochino ridicola, perché non sapevano cosa inventarsi, credo abbiano fatto bene alla fine, fermarsi lì, adesso vi parlerò del finale, quindi ci sono spoiler, chi non ha visto la sesta stagione, in fondo, salti e vada alla prossima, salti di un minuto, quello che sto per dire, allora, l'ietto fine per tutti, è vero, cioè, Emma e Uncino che si sposano, sono stati qualcosa, mi hanno fatto commuovere, a me Uncino è piaciuto sin dall'inizio, a destina quando era cattivo, per il suo look, truccato, figo, pirata, era fichissimo, e non pensavo che un giorno sarebbero arrivati al matrimonio con Emma, in realtà sono stata felicissima, perché come è diventato lui adesso, mi piace molto, e dopo aver perso Neil, lei meritava comunque l'ietto fine, insomma l'ietto fine c'è stato per tutti, anche per Tremottino, che francamente l'avrei preso a schiaffi nella sesta stagione, cioè una volta è buono, una volta li tradisce, una volta ci si può fidare, una volta cambia e si allea con la fata nera, hai rotto veramente le palle, Tremottino, ogni puntata cambiava bandiera, cioè che palle, dopo che aveva sposato Belle sembrava finalmente cambiato, cioè c'è stato un periodo in cui era veramente cambiato, mi ha deluso, e il fatto che lui abbia avuto l'ietto fine con Belle, penso che non se lo meritasse, se lo merita Belle ma non lui, anche il fatto di Gedeone che è tornato bambino, quindi loro hanno avuto una seconda chance, non è giusto, lui non se lo merita, e mentre Biancaneve e i principi si meritavano di ritrovare Emma piccola, invece no, lei è rimasta grande, ma vabbè, ma quello che più mi ha fatto incazzare, cioè hanno ucciso Robin Hood, cioè di nuovo hanno tolto l'amore della vita, quello predestinato a Regina, una seconda volta, ma mi prendete per il culo, cioè già con Daniel, quando quella bastarda di sua madre gli aveva strappato il cuore, lei si era trasformata in Regina cattiva, ed era stato un dolore che ci ha messo 30 anni da andare via, finalmente guarisce, diventa buona, infatti era un personaggio fantastico da buona, trova l'amore della sua vita, e cosa succede? Beh, glielo tolgono di nuovo, si sacrifica davanti a lei, cioè lo vede sparire, con la scena mi ha tipo spezzato il cuore, dove lei lo vede svanire, le scende una lacrima, ma tipo ucciso, non è giusto, è bello che ci passa sopra come se niente fosse, questa l'hanno proprio forzata nella storia, perché non è credibile, l'altra volta si è trasformata in un mostro, e adesso ci passa sopra, tanto che alla fine si vede che lei è felice, con Harry e Emma, e fare il sindaco di Story Group, no, no, ma a tutti un compagno, a lei no, non è giusto, tra l'altro è andato a vivere nell'altro regno, insieme alla sua metà cattiva, che lei aveva tolto dal corpo, cioè non solo l'ha perso, ma lo deve vedere con l'altra metà di sé, e no, vabbè, non è giusto, però, cioè, quindi un finale che insomma, non è che mi sia piaciuto molto, però, però mi mancheranno, perché comunque, mi mancheranno, loro avevano rimodernizzato il mondo delle favole, quindi mi mancheranno, poi, è ricominciata finalmente Super Network, grazie signore, dopo un anno, che erano fermi, e eravamo rimasti quasi tre stagioni indietro, era un anno che non doppiavano più, non si sapeva perché, avevamo paura noi fan che, non comprassero più i diritti, e non doppiassero più, io ero già nel panico, io seguo i Winchester da 12 anni ormai, cioè andavo prima o seconda superiore, seconda forse, per cui, no, no, non è possibile, l'altro giorno finalmente sono arrivati i primi episodi doppiati, grazie signore, e questa undicesima, perché siamo già a undici, questa undicesima stagione parla dell'oscurità, che come è partito il tutto, mi piace già moltissimo, io adoro Dean, inutile dirlo, adoro i Winchester, quindi, niente ve la consiglio, andate a vedere, per adesso ci sono solo cinque episodi, però, viva i Winchesters, poi, ho guardato Tim Wolf, che hanno ripreso, siamo alla sesta stagione, io mi sa che ve ne avevo già parlato, Tim Wolf lo seguo da un bel po', da quando ancora lo davano su Rai 4, per cui da sempre, dall'inizio, mi è sempre piaciuto, nonostante a me non piacere il canto, che anzi li odi, Scott non può non piacermi, e comunque il mio preferito è sempre stato Stice, che è strano, l'unico umano in mezzo, Stice, fa morire da ridere, lo adoro, cioè, mi fa impazzire, ogni cosa che dice, come recita anche quell'attore, fa proprio, ti fa far solo da ridere, la serie precedente, la numero 5, quella sui Dottori del Terrore, mi era andato un po' a noia, francamente mi faceva un po' schifo, mi aveva già un po' rotto le balle, qui invece, dove è arrivata la caccia selvaggia, ecco, tutto molto diverso, le persone che spariscono, Stice che sparisce, ero disperata, però, ecco, questa mi piace, questa non mi annoia, l'ultima mi ha un po', quella prima mi aveva un po' annoiata, e poi, qua, si rafforza il loro legame di amicizia, tra Scott e Stice, l'amore che è nato tra Lydia e Stice, dopo che noi, dopo che Stice, e noi la stavamo aspettando la prima serie, perché lui è innamorato già dall'inizio, e niente, anche il branco di Liam e Corey, tutti insomma che si riuniscono, è una bella cosa, sa di famiglia, è comunque molto interessante questa cosa della caccia selvaggia, di cui avevo solo letto nei libri, poi, due serie nuove che ho iniziato, la più bella ve la lascio per ultima, sono Saleme e Stitcher, Stitcher l'ho dovuto lasciare perché mi sono concentrata su, un'altra serie che mi piace di più, di cui vi parlo dopo, e Stitcher praticamente parla di questa ragazza, molto strana, che ha una malattia che si chiama displasia temporale, praticamente non ha la cognizione del tempo, e anche le emozioni, praticamente quasi è priva di emozioni, però è un genio informatico e matematico, un giorno un'organizzazione la prende e le chiede, visto che ha quel particolare problema, è adatta per questa cosa, le chiede se vuole far parte dell'organizzazione, del progetto Stitchers, cioè collegano loro attraverso delle macchine speciali, ai cadaveri, di modo da recuperare i ricordi del morto, al quale si collega, così per risolvere omicidi mai risolti, casi di omicidi mai risolti, lei accetta, perché tanto lei non ha paura di niente, con il pericolo però, cioè quella precedente ad esempio, che si chiamava Marta, che l'ha preceduta, è rimasta un vegetale in ospedale, perché se non ti scolleghi a tempo, prima che la memoria del defunto, prima che il cervello della persona morta, si deteriori del tutto, e tu sei collegata, rischi di fare la stessa fine, ti si prege il cervello, oppure l'altro rischio è che, quando ti svegli, non riesci più a distinguere, i tuoi sentimenti, da quello che provava lui, cioè lei ad esempio, comincia a provare amore, cosa che non ha mai provato, nei confronti di un uomo, che non aveva mai visto prima, che era praticamente il ragazzo, di quella con cui si era collegato, e nel mentre, uno dei suoi colleghi, comincerà a provare un debole per lei, non sono andata oltre il quinto episodio, perché poi ho trovato, questa serie qui, che è una bomba, è seconda solo ad American Gods, si chiama Orphan Black, che credo che sia piuttosto famosa, perché ormai è la quarta stagione, è notato, di cosa parla? C'è la protagonista, si chiama Sara, una trentenne, scappestrada, sempre scappestrata, ribelle, non ha genitori, è cresciuta in un orfanotrofio, e poi è stata adottata, a otto anni, insieme al suo fratello, fratello non di sangue, Felix, con il quale è cresciuto, dalla signora S, che non era sua madre adottiva, era solo la tutrice legale, di tutti e due, infatti loro sono cresciuti come fratelli, partiamo dal fatto che, suo fratello, Felix, quando lo vediamo da grande, che è gay, fa morire da ridere, cioè è proprio gay al 100%, lo trovate, è un artista, lui dipinge, quindi dipinge con il grimpiole davanti, le chiappie al vento fuori, si veste in un modo che c'è da pisciarsi addosso, è l'anima di ogni sketch, praticamente fa ridere, come Stice, solo però nella versione gay, quindi fa ancora più ridere. Allora, Sara era assente da casa sua da dieci mesi, aveva lasciato sua figlia di sei anni, con la signora S, ritorna ed è invischiata però in un brutto giro di cocaina, con gente che le dà la caccia. Quando scena in stazione, vede di spalle una donna, che è visibilmente turbata e disperata, la vede che si toglie la giacca, la lascia per terra, lascia anche le scarpe e la sua borsa. Lei prova ad avvicinarsi per vedere se stava bene, come si avvicina, la donna si gira e vede colpo di scena, che è identica a lei, una sua gemella praticamente. Non fa tempo ad accorgersene che questa prende e si butta sotto il treno, suicidandosi. Nello shock del momento, nessuno fa caso a lei, tutti vanno a fermare, il controllore va a fermare comunque il treno, chiamano la polizia, e lei però lì, a mente un po' più fredda, si calma e vede un'opportunità. Se assume l'identità di questa donna, può, e fingersi morta lei, può scappare da chi la caccia per via del giro di droga. Così prende la borsa di questa, dentro c'è telefono, chiavi della macchina, chiavi di casa, tutto, e scappa. Raggiunge la casa di questa qui, scopre che si chiama Beth, e intanto dice a Felix, tuo fratello, mi raccomando, se vai all'obitorio, le viene l'idea, facciamo che quella morta sono io, così non mi cercano più neanche, perché quello che lo cerca per problemi di cocaina è poi il suo ex, che deve dei soldi, a sua volta ha dei pezzi grossi, che insomma gli hanno dato un ultimatum. Felix va all'obitorio, dice, oh mio Dio sì, questa è Sara, che in realtà è Beth, nel mentre però Sara si accorge che questa qui, intanto di cui ha preso le sembianze, è vestita bene, ha dei soldi, ha una bella casa, si accorge perché un collega di questa Beth lo ferma, che Beth è una poliziotta, è un detective dell'omicidi, e la cosa qui si fa seria, perché se la scoprono di aver rubato l'identità ad una poliziotta, sono guai, solo che quando dice a Felix di annullare tutto, ormai è tardi, hanno già fatto una veglia per lei, tutti sanno che è morta. E nel mentre, Beth aveva due telefoni, uno nero, che è quello, quello diciamo di servizio per la polizia, e uno vecchio, rosa, ancora in occhio a quelli vecchi, dal quale riceve chiamate da anonimi, o comunque numeri che hanno solo un nome, da diverse donne, di diverse nazionalità, che le chiedono sempre la stessa cosa, dove sei, hai dato i miei campioni all'altra, eccetera, eccetera. Lei per un po' si finge, Beth sta al gioco, intanto trova a casa di Beth dei certificati di nascita di donne, che hanno praticamente la sua stessa età, un giorno una le si presenta in macchina, una donna dai capelli rocci, uguale a lei, un'altra sua gemella, uguale a lei, però tedesca, malata, che sputa sangue, e questa qui si accorge che questa non è Beth, ma è Sarah, ma chi sei? Solo che quando dice così, un cecchino la centra in piena testa e la uccide, praticamente la uccidono perché non voleva che parlasse, e Beth capisce che queste donne qui, che probabilmente sono uguali a lei, sono nell'occhio del mirino di qualcuno che le vuole uccidere, e infatti poi alla fine riesce a incontrare una di quelle che la chiamava, che si chiama Ellison, anche questo è uguale a lei, cioè sono praticamente tutte delle gemelle, e le chiede spiegazioni, fa cosa sta succedendo, è impossibile che siano tutte gemelle, io non ho nemmeno sorelle, che io sappia, e oltre a questa Ellison, a casa sua quel giorno, trova anche una che si chiama Cosima, e anche questa, inspiegabilmente, è uguale a lei, Cosima ha i dread, ha gli occhiali, quell'altra ha la frangetta, l'altra ha i capelli corti e rossi, lei c'è gli allunghi e castani, tutti con look differenti, ma hanno tutti lo stesso volto, uguale, identico, e lei fa, che cosa sta succedendo, praticamente Ellison sbotta, perché comunque non è felice che lei si sia finta verte, e fa, siamo dei cloni, siamo stati creati da qualcuno, da un programma segreto, da degli scienziati che ci studiano, e adesso qualcuno si è messo ad ucciderci, e non sappiamo perché, Cosima, che è una, come si dice, una ricercatrice, lavora in laboratorio, doveva avere i campioni di questa Kira, che era, no non Kira, scusate, vabbè non mi ricordo il nome della tedesca, quella a cui hanno sparato, perché era appunto malata, sembra che a un certo punto loro, essendo cloni, quindi geneticamente non perfette, sviluppino questa malattia ai polmoni, che le porta poi a morire, e quindi Cosima voleva i campioni per questo, Sara gli recupera al posto di Bette, che ormai è andata, e nel mentre deve ancora reggere, cioè ormai c'è già dentro, lei voleva prendere i soldi, aveva nel mentre prosciugato il conto corrente di Bette, falsificando la sua firma chiaramente, voleva prendere sua figlia, Felix, quindi suo fratello, e scappare, ma ormai è talmente dentro a questa cosa, sia nella polizia, che nelle altre due, che comunque le chiedono aiuto, perché comunque devono sapere chi li ha creati, chi è che le sta dando loro la caccia, e perché, che non parte, alla fine c'è dentro, anche sentimentalmente, perché comunque deve fingere anche con il ragazzo di Bette, che si chiama Paul, che poi si scopre essere l'osservatore, ognuna di loro accanto a qualcuno che le osserva, e riferisce all'agenzia che le studia, insomma, qui viene fuori, la trama, più si va avanti negli episodi, più si infittisce, con un miliardo di cloni che vengono fuori, e lei che c'è sempre più dentro, alla fine poi, verrà scoperta, cioè che è Sara, ma, beh, insomma, ci sarà un intreccio molto, molto, molto bello, pesante, molto corposo, diversi intrecci, molte storie, fantastica l'attrice, perché ho cercato su internet, non ci sono, non ha gemelle, e non ci sono sosie, che lavorano sul set, è sempre lei che si cambia continuamente di look, di atteggiamento, di modo di parlare, cioè riesce a farle davvero bene, pur essendo uguali, le distingui, non solo perché sono pettinate nella maniera diversa, ma proprio per, come parlano, gli interessi che hanno, gli accenti che hanno, una è lesbica, quell'altra è la studia biologia, quell'altra è la mamma borghese, quell'altra è poliziotta, l'altra ancora, è una tossica, eccetera, è veramente bellissimo, poi mi sono, i primi episodi sono bellissimi, perché non sapete ancora di tutto sto casino, quindi, cioè vedete lei che, può avere una rinascita, cioè può fingersi qualcun altro, sarà che sono in un periodo in cui vorrei tanto sparire, cancellarmi da qui, e rinascere, fingere, avere una seconda chance, una seconda vita, che mi piace da matti, mi sono immedesimata molto, comunque ve lo consiglio, perché è molto 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 bello, sono già alla seconda stagione, e per finire, questa è carina, niente di che però è carina, sulle streghe, si chiama Salem, proprio, come dire, nulla di mai sentito, questo Salem, praticamente ambientata nel 1765, a Salem appunto, sì, l'epoca mi sembra quella, dove c'è la famosa caccia alle streghe, vediamo la protagonista, e il protagonista maschili, che sono, lei e la signora Sibli, la futura signora Sibli, non mi ricordo come si chiama, Mary, ecco, si chiama Mary, quando è una ragazza, questa Mary si innamora di John, che, con il quale ha una storia, ovviamente fuori dal matrimonio, loro non sono sposati, e lo fanno, nascosti dai preti, naturalmente, nel momento, nel mentre, dilaga la paura, streghe, bruciano qui, bruciano là, quasi sempre, praticamente sempre degli innocenti, ma, questa cosa è diversa, perché praticamente, qui a Salem, si scopre che, ci sono davvero, delle streghe, vere e proprie, e, fatte, caratterizzate, proprio come, cioè molto stereotipate, cioè proprio come, l'inquisizione, le credeva, che non è assolutamente vero, perché le streghe odierne, sapete che non sono così, comunque, vabbè, allora, lei intanto, John viene chiamato alle armi, lei si dispera, questa Mary si dispera, perché lui è l'amore della sua vita, fa torno presto, entro un anno, passano sette anni, e lui ancora non c'è, lei nel mentre, finisce in mezzo alla magia nera, grazie alla sua serva Tituba, che, che è già una strega di per sé, e come dicevo, sono appunto, stereotipate, nel senso, qui le streghe sono veramente, veneratrici del diavolo, infatti lei la porta nel bosco, perché Mary si scopre incinta di John, che però non c'è più, è partito, non lo può tenere, perché chiaramente non sono sposati, allora Tituba la porta nel bosco, e la inizia, alla stregoneria, e la, come si dice, la consacra al diavolo, il diavolo prende il suo bambino, lo fa sparire, praticamente, cioè, gli appoggia le mani sulla pancia, e puff, sparisce, il ventre è piatto, e da quel giorno, lei praticamente ha offerto l'anima, attraverso quella del bambino, ha offerto la sua anima al diavolo, quindi, da quel giorno, Mary viene addestrata, da Tituba, la sua serva, e diventa una strega potente, piuttosto potente, tanto che, quando John, sette anni dopo, ritorna, la trova come la signora Sibli, cioè, la moglie dell'uomo più influente, di Salem, che era poi quella, quello, che, voleva, che ha mandato sul tempo via John, perché voleva la donna per sé, ma lei lo ha, all'inizio è stata succube, nel senso, ha dovuto subire le, come dire, gli avanzi di questo schifoso qui, che lei ovviamente non piaceva, poi, con Tituba ha imparato come si fa, e mettendogli il suo famiglio dentro, cioè un rospo, dentro alla gola, e gli rimane nello stomaco, ha fatto sì, che lui sembri malato, cioè, un po', cioè, passa tutto il giorno, su una serie di rotelle, senza riuscire a parlare, solo mugugnando, e sbavando, come a più non posso, e vomitandosi addosso, praticamente, lei attraverso lui, ha preso il controllo di Salem, perché lui è, è come se fosse il sindaco di Salem, la persona più influente lì, e adesso lei è la donna più potente, e influente lì, ed è in combutta con il consiglio, a loro volta, streghe e stregoni, qui ci sono anche uomini, per fortuna, e si vedono le peggio cose, nel senso, loro fanno veramente sabba, con il diavolo, che tra l'altro si vede, e poi, come dicevo, è pieno di stereotipi, falsi dell'epoca, tutte credenze dell'epoca, cioè, che anche, come si dice, che le streghe, abbiano un terzo capezzolo, nascosto nel corpo, dal quale, allattano il famiglio, cose che fanno vedere, cioè, Mary ne ha uno sulla coscia, da lì allatta il rospo, o la tituba, ne ha uno qua dietro, dal quale allatta il ragno, una tarantola, che è il suo famiglio, poi streghe, che, quando gli viene fatta la strappata, non so se sapete cos'è, era una, una tortura, della, dell'inquisizione, che veniva usata davvero, praticamente, vi legavano così, così no, e vi tiravano su così, fino a che, qua ovviamente, si rompeva tutto, loro, una sera, di luna piena, una sera, secondo la, quella di Saturno, secondo la quale, una strega non può mentire, ne attaccano una, così a un albero, ma questa si arrampica, come se fosse l'uomo ragno, però così all'indietro, cioè quindi, è anche molto impressionante, sono molto, non è una cosa leggera, non è il classico, non è la classica serie tv, per ragazzine, come era streghe, quella che guardavamo noi da piccole, questa è pesantuccia, cioè comunque ci sono torture, perché a un certo punto, arrivano inquisitori, e prendono una di loro, quindi ci sono torture, sebbene cercano ovviamente, di farle vedere il meno possibile, comunque non è leggero, torture, decapitazioni, cadavri a non finire, si vede una di loro, al dono più oscuro, c'è la negromanzia, si vede il rituale completo, di come si fa, far tornare in vita, un essere umano, cioè è impressionante, praticamente scuoiano la faccia del cadavere, attaccano la pelle della faccia, su dei ganci, che la tiene tirata, la strega dice avanti, forza respiro, e nel mentre sgozza, un gal, una gallina, e a un certo punto, questa faccia, la pelle apre gli occhi, inizia a parlare, impressionante, non l'avevo mai sentito fare così, nel senso, avevo visto persone, avevo visto, ovviamente nella serie tv, persone che risuscitano cadaveri, però il corpo intero, non solo l'ha fatto, è veramente fatto bene, è impressionante, pieno di stereotipi, cupo, macabro, perché comunque, ha delle atmosfere, molto cupe e macabre, e nel mentre, John e Mary, che comunque lei è ancora innamorata di lui, lui è ancora innamorato di lei, lui non sa niente, e lei deve portare a termine, il suo morito, che cos'è il suo morito, il rito con il quale, attraverso l'uccisione di 13 innocenti, spalanchi le porte dell'inferno, e fai venire fuori il diavolo, il diavolo in terra, attraverso il malum, che è un oggetto a forma di mela, antico, eccetera, eccetera, ma insomma, se vi piacciono cose dark, cupe, belle, toste, pesanti, questo fa per voi, sappiate che è pieno di stereotipi, ecco, questo volevo dire, nel senso, io che sono strega, mi ha fatto un po' alzare gli occhi al cielo, su alcune cose, però, vabbè, ci sta una serie tv, che voleva essere molto, come si dice, fedele a ciò, fedele all'epoca dell'inquisizione, perché credevano davvero in queste cose qui, e basta, questa era una serie tv del momento, volevo parlare poco, ho fatto un video lunghissimo, ditemi voi, se ne avete guardate, di queste che ho detto, quali guardate, quali mi consigliate, lasciate qui un commento, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, passate anche da Instagram e Facebook, e noi ci vediamo in un prossimo video.